Le cose per l'economia italiana vanno bene e si spera vadano ancora meglio. Trattasi di una gigantesca stronzata. E lo dico un po' a tutti noi, a tutti gli italiani, vaccinatevi e rispettate le regole. Ma vattene a fanculo! Ho detto che non voglio celebrare successi, però questo effettivamente va detto, abbiamo preso per il culo tutti gli italiani. Poi, indubbiamente, ieri ho ringraziato i ministri. La presenza di agenti in borghese appartenenti alla Dicos, con compiti di osservazione e monitoraggio e anche di mediazione con i manifestanti. Ma che cazzo dici? In realtà, quell'operatore stava verificando anche la forza ondulatoria scaricata sul mezzo e che non riuscisse ad essere effettivamente concluso. Due cose, l'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Grazie. 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 Grazie.